Tre sono stati gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebrezza dai carabinieri della compagnia di Domodossola nel passato fine settimana. Tutti avevano livelli di alcol nel sangue di molto superiore al massimo consentito. Un 32enne straniero, residente in Calabria è stato trovato alla guida di un'autovettura con un tasso pari a 1,39 grammi litro. Un 23enne è stato invece trovato alla guida di un potente fuoristrano. Gioielleria Rossi, il nuovo negozio in via Briona a Domodossola.